La bellezza della pelle dipende dai complessi equilibri biologici e dal rispetto che abbiamo per il nostro corpo. Sulla pelle è presente un prezioso universo di microorganismi che costituisce il microbiota cutaneo, ovvero una comunità di più di 500 specie di batteri, il cui equilibrio garantisce la salute e le difese cutanee. Selenia Italia presenta oggi una nuova formulazione di cosmetici prebiotici e probiotici in grado di riequilibrare la tua pelle per darti migliori risultati nel trattamento degli inestetismi. Scopri l'innovazione cosmetica dell'anno e un progetto indispensabile per la crescita del tuo centro. Grazie a tutti.